La direttrice di gara di quest'oggi inizia la seconda gara della triangolare della categoria 2016 per la finale della Coppa del Pulcino giocano One FFF gialla contro Monteverde Prova a ripartire Bomboy, buona la palla per Rasogba, non arriva bene però Rossi Adesso all'altra parte, arriva il gol dell'1-0 per il Monteverde che va in vantaggio dopo 4 minuti di gioco Saltari sulla destra, gioca bene il Monteverde, il tentativo di Saltari C'è il gol, 2-0 Monteverdi, gioca benissimo, la scuola è maglia blu Ancora Pulet Palla Risa Da Truisiani Ricci Buona la palla in avanti per Saltari Chiude però dall'altra parte bene Denis Mese Buona la palla per Sgro Palo Saltari deve battere, la mette in mezzo La testa, la testa Buona la parata di Tassati, altra buona parata dopo il tiro di Sgro Palla Stai lato Stai lato Stai lato Stai lato 2-0 Ricordiamo Palla in mezzo Il tiro Doppietta di Saltari 3-0 Monteverdi Rimessa La palla in gioco, a breve Si può ripartire per gli ultimi minuti, Saltari recupera palla Saltari Para Tassotti Alla sinistra Paulet Saltari ancora Appressare Gizzi Supera l'avversario Gizzi Tassotti ancora imparato Porta avanti con il volto Cerca di sforzare Bukataru Sgroin Pressione Altieri di testa Siamo arrivati alla fine Manca qualche seconda Sgroin Puccino Prova il tiro Saltari E finisce qui Il Monteverdi Vince La Coppa del Puccino 2024 Oney FF Gialla 0 Monteverdi 3